Ciao, sono Emanuela Maddio, docente e fondatrice di Case di Fotografia. Nel corso Come creare mappe interattive, scopriremo come integrare nelle tue lezioni due strumenti digitali utilissimi per creare percorsi di letteratura italiana e straniera, storia, arte e non solo. Le mappe interattive, infatti, si adattano a qualsiasi materia curricolare e sono un valido strumento per sviluppare competenze informatiche, ma anche creare collegamenti immediati tra gli eventi e luoghi in cui questi sono avvenuti. Inoltre, le mappe interattive riducono il carico cognitivo e facilitano l'apprendimento in classe. Durante il corso, impareremo a realizzare itinerari su Google My Maps e percorsi multimediali su StoryMap. Con il corso di formazione Come creare mappe interattive, puoi acquisire nuove competenze e metterle subito in pratica nella tua classe. Ti aspetto in streaming!